Mi piace lavorare e stare nella natura. Una coltivazione biologica per me è molto importante. Non soltanto per noi, ma anche come messaggio alla gente. Magari se lei fosse vissuta nel 1500... Eh sì, allora mi avrebbero pruggiato come strega. Correva dei rischi, eh? Sì, sì. Abbiamo tanti tipi di Achillea. Questa la mettiamo nelle insalate o per dare una nota amara nei nostri piatti. La cagliata viene ridotta a chicchi di riso. Pochi sanno che dei dieci pianoforti più importanti che ci sono al mondo, sette, usano la tavola armonica costruita qui da noi con il legno della Val di Fiemma. Noi utilizziamo solo legno dell'alto Aige, che per tanto abbia al centro l'occhiale, è fatto proprio a mano. Noi utilizziamo solo legno dell'alto Aige.. Finalmente c'è un ritorno della gioventù e questo è molto bello. Famiglie, famigliole, c'è un itinerari facili, si divertono loro e fanno vivere la montagna. L'economia non ha e non deve avere come fine ultimo quello di fare soldi. Ma di far star bene le persone, il benessere delle persone. Grazie. 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 Grazie.